Incaricate 30 secondi di una vostra performance così come ha fatto Melania Luigi, questa fiamma rappresenta l'amore per te con il mio cuore abito al tuo formeremo la tua famiglia Simone, il mio amore è rappresentato da questa fiamma ti consegno il mio cuore unito al tuo per far sì che il nostro sia più grande e sicuro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti